Eccoci qui dunque, bentornati a tutti sul mio canale. Le attesissime AirPods 2 sono arrivate sul mercato. Proprio ieri la Apple, con un nuovo annuncio sul suo sito, ha tirato fuori dal cilindro questo attesissimo device che tutti attendevamo ormai da molto tempo. Ne avevamo già parlato nei video precedenti, che questo era uno delle aspettative più grandi che si avevano per l'incontro di primavera. Ma questa è una settimana davvero molto importante per Apple. Ogni giorno sta tirando fuori dal cilindro dei nuovi device davvero molto interessanti. Abbiamo visto poco tempo fa i nuovi iPad, c'è stato il lancio anche di un nuovo iMac e adesso, proprio ieri, eccole qui. Chissà cosa ci attende prima del 25 marzo. Ma hanno soddisfatto le aspettative di tutti queste nuove AirPods 2? Sono davvero un grande cambiamento rispetto alle AirPods 1 o sono una versione 1.5, come già in molti stanno dicendo? Vale la pena comprarle? Vale la pena passare dalle 1 alle 2? Ecco, questo è tutto ciò che vedremo in questo video. Però se ancora non lo hai fatto, io ti prego di iscriverti al canale, perché per te davvero non costa nulla, è solo un click. Invece per me è un grandissimo favore. E se lo fai, clicca anche la campanellina, così rimarrai sempre connesso a tutte le novità di questo canale. Ieri pomeriggio, dunque, Tim Cook, con questa immagine che stiamo vedendo su Twitter, ha pubblicato l'annuncio delle nuove AirPods 2. Dei meme già si sono scatenati. Guardate questo, è veramente molto molto carino, a mio avviso. Ma quali sono le maggiori novità di queste AirPods 2? Quando dico queste, siamo sinceri, non sono queste, perché chiaramente questo video è stato fatto il giorno dopo del lancio e quindi queste sono le 1, diciamoci. Però questo video è valido sempre, anche quando le AirPods 2 saranno finalmente nelle mie mani. Il design non è cambiato di una virgola. Quando Apple fa una cosa fatta bene, per cambiare il design, lo abbiamo detto anche quando abbiamo parlato degli iPad, ci vuole un po' di tempo. Il design è sempre lo stesso. Ciò che è cambiato molto all'interno delle AirPods 2 è il cuore. Il processore. Il nuovo processore H1. Questa è la prima grande novità. Il chip all'interno delle AirPods. È chiamato H1. Le AirPods precedenti avevano il chip W1, che corrispondeva allo stesso chip che si ha negli Apple Watch. La Apple però non ha voluto più far confusione e quindi ha voluto disegnare un chip proprio per le AirPods, andandolo a chiamare H1. Ma cosa consentirà di fare questo nuovo chip? Ebbene, le promesse sono strabilianti. Il doppio della velocità di connessione tra i tuoi dispositivi wireless. Abbiamo presente quando tu prendi il tuo dispositivo e vai a vedere la connessione, eccola vedete, tra le tue AirPods e il tuo dispositivo. Ebbene, Apple annuncia che la velocità di connessione tra tutti i tuoi dispositivi sarà il doppio più veloce. Questo significa che puoi andare a shiftare, ad esempio, tra il tuo telefono, tra il tuo iPad, il tuo computer, in maniera molto veloce. Altra grande novità che farà piacere soprattutto ai giocatori e coloro che dunque indossano le AirPods per giocare è la riduzione della latenza del 30%. Questo significa che la differenza che c'è tra ciò che tu vedi e ciò che tu senti sarà ridotta del 30%. Certo, non è un numero strabiliante, ma di certo potrà servire a chi utilizza le AirPods per giocare. Questo nuovo chip permette anche delle connessioni più stabili. A me a volte è successo il fatto di andare a mettere sul mio orecchio le AirPods e non averle collegate immediatamente. Ancora, la velocità di risposta alle tue telefonate è 1,5 più veloce rispetto alle AirPods precedenti. Questo significa che potrai andare a rispondere le telefonate in maniera davvero molto veloce. Certo, a volte tu non vuoi rispondere e invece questo te lo fa fare velocissimamente. Altra novità, Siri direttamente agganciato alle tue AirPods. Avendo messo questo nuovo chip, la Apple ha potuto andare a mettere Siri direttamente sulle tue AirPods senza andarle a richiamare tramite i tuoi dispositivi. Che cosa significa? Che puoi andare a chiamare Siri una volta che hai indossato le tue AirPods. Molto comodo. Infatti, sappiamo che Siri è fondamentale dal momento che qui non abbiamo nessun tasto fisico. Non abbiamo un tasto per alzare il volume, non abbiamo un tasto per passare da una canzone all'altra, per cambiare una stazione e passare da una stazione radiofonica all'altra. Tutto va fatto tramite Siri ed averlo messo direttamente sul tuo dispositivo è veramente una cosa molto interessante. La batteria. Come va ad incidere il nuovo chip sulla batteria? Ebbene, la Apple garantisce 5 ore di ascolto con una sola carica e fino a 3 ore di autonomia in una conversazione. E dunque possiamo avere una batteria che forse è tra le migliori di tutte le cuffie wireless, ancora aumentata grazie a questa nuova versione 2. Un'altra novità importantissima che ci aspettavamo e sapevamo dunque che sarebbe stata utilizzata è quella del case wireless. Questo significa che avremo a disposizione un case che potremmo andare a ricaricare su una base wireless. Il problema è quale base wireless? E qui iniziamo ad andare verso le cose che forse ci aspettavamo e che mancano. Infatti, ancora la base di ricarica wireless non si vede all'interno dei prodotti Apple. Rimaniamo comunque connessi perché in questi giorni di grosse novità magari una di queste potrebbe proprio essere la ricarica wireless. Per ora ci accontentiamo anche del fatto che non c'è base di ricarica wireless e questo può essere anche un fattore positivo perché vuol dire che potremo andare a ricaricare tutti i nostri dispositivi con ricariche standard basta che abbiano il protocollo QI. Questo è molto positivo. Alcuni in rete già stanno dicendo beh, non c'è nessun problema, le vado a ricaricare con una bellissima base di ricarica Samsung. Prima di andare a vedere se conviene oppure no passare a questa nuova versione delle Airpods facciamo qualche considerazione su ciò che manca. Una cosa che sicuramente in molti si aspettavano è il colore. Rimane il bianchissimo Apple. Non c'è traccia di colore nero. Molti si aspettavano le Airpods Black. Chissà, magari nell'evento di settembre troveremo anche questa novità oppure nei prossimi eventi 2020 una nuova versione, versione 3 e avremo queste novità che altri si aspettavano. Andiamo a vedere il prezzo, cosa fondamentale. Le Airpods con custodia di ricarica wireless sono a 229 euro con invece la custodia senza custodia wireless a 179 euro e puoi acquistare la custodia di ricarica wireless a 89 euro. Questo significa che potrai andare ad utilizzare anche le 1 con la custodia wireless. Conviene? Ma, diciamo, dobbiamo fare molta attenzione e quindi andiamo nel capitolo conviene acquistarle? Conviene passare dalle 1 alle 2? Beh, se tu hai le 1 e le vuoi wireless basta spendere 89 euro e ti ritroverai delle Airpods 1 wireless. Non so quanto convenga. Se invece hai le 1 e le hai tenute con religiosa custodia come ad esempio sto facendo io non so quanto convenga passare così direttamente alle 2. Se invece non hai proprio le Airpods come abbiamo spiegato nei video precedenti che ti linko ed anche dei gadget dei video precedenti io penso che valga davvero la pena acquistare le Airpods tenendo conto che sono uno degli oggetti più venduti da parte della Apple. Sul tuo case nuovo wireless gratuitamente se le acquisti online puoi anche andare a mettere una dedica o non so appartengono a me oppure viva la Apple viva la Samsung ci puoi scrivere insomma qualsiasi cosa sul tuo case. Ecco io ho finito lasciami nei commenti se pensi che questa sia davvero la versione 2 o la versione 1.5 quali sono le cose per cui ti ha soddisfatto questa nuova versione ed invece le cose che ti aspettavi e che invece non sono assolutamente successe le comprerai? non le comprerai? scrivimelo qui sotto nei commenti e ti raccomando iscriviti al canale perché davvero a te non costa nulla invece per me è un grandissimo enorme favore adesso ti lascio ti saluto ti auguro una squisita giornata e ti dico ciao ciao